Io sono innocente, io ho sempre stato innocente, io non sento niente. E sono stati nove anni di cui lo sentite di tutti i colori, la gente che mi ha minacciato, andavo nei locali, mi guardavano male. Parla per la prima volta Luca Vanneschi, assolto assieme ad Alessandro Albertoni al processo d'appello per la morte di Martina Rossi, la studentessa ligure precipitata dal balcone della Camera 609 dell'Hotel Sant'Anna di Palma di Mallorca il 3 agosto 2011, secondo l'accusa cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro. Questi nove anni mi hanno rovinato, io ci ho rimesso un'azienda, ci ho rimesso un'impresa, sei mesi non ho mai lavorato, insomma non l'ho passato bene, anzi, per me è come se fossi ricominciata la nuova vita da ieri. I due giovani nel dicembre 2018 erano stati condannati dal Tribunale di Arezzo a sei anni, tre per tentata violenza sessuale di gruppo ed altri tre per aver causato la morte della ragazza in conseguenza di un altro delitto, quest'ultimo reato caduto in prescrizione lo scorso novembre. La Corte d'Appello di Firenze ci ha dato una soluzione piena perché il fatto non sussiste per entrambi i capi di imputazione e questo è praticamente una vittoria totale su tutti i fronti, io sostenevo già in primo grado che si trattava di un gravissimo errore giudiziario. Nel corso di questi nove anni Luca Vanneschi si era trincerato dietro un assoluto silenzio se non per rilasciare delle dichiarazioni spontanee davanti alla Corte d'Assise, ribadendo ancora una volta la sua innocenza, ma è una parola di conforto nei confronti dei genitori della ragazza. Ieri quando Stefano mi ha dato la notizia ho pensato a Martina subito, ho detto sicuramente anche lei si era contenta perché finalmente è venuta fuori la verità, quella che volevamo anche lei. Di cosa si è successo dentro quella camera d'hotel però ancora ad oggi Luca preferisce non parlare. Ti hai sempre detto che Martina si è gettata volontariamente? Di questo procedimento ancora non voglio parlare di queste cose. E anche e soprattutto per rispetto ai giudici che hanno giudicato e mi ha assistito, ovviamente se avesse qualcosa da dire lo direbbe ovviamente nelle arti giudiziali.